Allora ragazzi, per prima di iniziare sto video devo salutare i miei tre best clients Candela Vamila, Doni e Rezobelot, ciao a questi tre E guarda, dobbiamo sfogare in questo gioco adesso, quindi darmi la possibilità di sfogare questo gioco qua Ok, ora che inizia, lui deve dire cosa dobbiamo fare Hai visto quando è difficile già saltare? Oh eh, che caro, ne hai fatto lungo? Vai, vai, salta Oh ma perché, arrivassi proprio, non si salta più Ma porca parte, è salta, non si rida Sì Sì, ma riusciremo a arrivare a la fine o no? Mi siamo proprio in opera dai, a me da quello Ho eh, ho eh, ho eh, ho eh, ho eh E' aperta, no possiamo buono? Oh 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 Ho eh Ho eh Ho eh Ho eh Ho eh E' fra voi. E' il mare con un giallo. E' il mare con un giallo. E' il mare con un giallo. No, percorso, però è che la mosca faccia in vivo. Ma vedete, è stavata, vedete, oh! No, 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 no. Non ce l'abbiamo fatto mai! Si, vabbè, va, abbiamo quelli che... Allora, arrivo, non arriviamo. Se andiamo a sto passo, non arriviamo. Allora, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettetevi il video sotto nei commenti. Iscrivetevi al mio canale, mettetevi l'iscrizione, perché... Ve lo dico in tutti i video, l'iscrizione è gratis. Quindi, continuate ad iscrivervi. E supportatemi... Sempre. Lo dico a tutti i miei fan questa cosa qua. E ci vediamo al prossimo video. Quindi... Un abrazo a tutti i miei fan. E soprattutto ai miei best friends che ho detto all'inizio. Grazie. 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 Grazie.